Sì, ci sarebbe servito sicuramente l'apporto in più mancante di Norman e di Stefano, quindi la partita sarebbe potuta andare sicuramente diversamente. Comunque c'è da vedere il positivo in quello che abbiamo fatto, comunque abbiamo fatto vedere qualcosa di diverso ed è comunque l'inizio di un percorso che abbiamo iniziato da poco col nuovo coach. Coach Benedetto ha preso l'eredità dello Bustelli, cosa vi ha chiesto in questo rush finale del girone di andata? Sicuramente si parte dall'aspetto mentale, quindi un'intensità, un'energia e un'attitudine diversa rispetto a prima e poi ovviamente stiamo lavorando per sistemare diversi aspetti tecnici e tattici che ovviamente si adatteranno alle caratteristiche dell'allenatore così come alle nostre. La Delfast è un roster giovane, anche tecnicamente valido, però un inizio di campionato non proprio esaltante, una vittoria e cinque sconfitte. Cosa è mancato a questo team che comunque nonostante una partenza è negativa, può dire ancora la sua? Quello sicuramente, il roster è stato allestito in una certa maniera, ci sono delle presenze importanti, adesso con il nuovo coach lavoreremo per sfruttare tutti al meglio e quindi sicuramente penso che possiamo dire la nostra, bisogna lavorare duro, cercare di recuperare questo gap che comunque abbiamo creato all'inizio perdendo qualche partita di troppo e non ci resta che lavorare.